praticamente si sono dissaldati cioè questo è il sedile capito? ho smontato anzi stavo smontando quel pannello e c'era questo pezzo di carta qui così infilato dentro, a cosa servirà? qua dentro, no? lì dentro era, tra i fili del... a cosa servirà? magari se c'è una mappa del tesoro cioè non so cosa possa servire devo dire non è messo malissimo ma neanche per il meglio adesso tolgo anche questo e tolgo tutti i pannelli i pannelli mi sembra che sono abbastanza regolari cioè non c'è ruggine anche da questa parte non sono bagnati e quindi mi sembra che vada bene si il materiale è veramente proprio cartone orribile anche di là mi sembra che è abbastanza tutto molto regolare ottimo questo qua si è bagnato che viene da questa porta qua infatti si vede tutta l'umidità quindi è bene toglierli e asciugare il tutto abbiamo tolto tutti i pannelli no? tutti i pannelli li abbiamo tolti l'unico punto che era bagnato era appunto questo qua che però è molto bello adesso si è già asciugato così diamo una pulita e sostituiamo questi pannelli giusto questo qua che era marcio no non messo per il meglio e dopo di che comunque cambiamo anche gli altri no cambiamo tutti quanti work in progress quando ho la bombola del gas non è che la posso coprire devo tenerla abbastanza accessibile giusto per qualsiasi evenienza e quindi questa scatola qua la devo modificare sono già due volte che uso gli stessi legni e viene modificata ora vediamo che cosa uscirà fuori per adesso ho tolto anche quello il mio mondo poi vediamo deve sistemarlo eccoli qui lavoro in corso no questa era la scatola che avevo con tutti i prezzi da lavoro corde palle varie adesso la devo sistemare diversamente qui il mondo come puoi vedere e qua tutti i pannelli smontati utilizzata così mi sembra che vada bene è un po alto è però adesso con le cassette le devo sistemare è vera che roba si accende anche la lucina e ma questa è una macchina spettacolo è un pannello e qua praticamente c'è l'altra sorpresa cioè praticamente anziché i pannelli isolanti eccolo qua il pannello isolante era due fogli di carta uno e l'altro che c'è lì però di là non c'era nessun foglio di carta solamente qua e stranamente questa è più questa è chiusa l'altro invece no qua gli diamo poi una pulita vediamo di sostituire come si chiamano le viti con la vi e niente piano piano andiamo avanti coi lavori updating the car la nuova organizzazione speriamo che questa sia quella definitiva buongiorno no prima avevo un grande tavolone adesso invece ho fatto professional guarda che bello i pezzi di di scarto che avevo no ho fatto una base per appoggiare questo dove tengo tutte le corde no corde trai no eccetera sacchetti di plastica appeso gli zaini ho rimesso questa borsetta qui altra contenitore per mettere tutte le altre rumentine varie estintore cavi batteria e quant'altro tannica benzina occorrenza diventa è un tavolino sotto abbiamo tutte le tannichette del olio spray vari fornellino gas cassetta degli attrezzi e mi sembra che ci siamo tenda mimetica scopa professional tarp direi che ci siamo eccomi qua è bella giornata oggi senti ho hanno cantato fino a un attimo fa ecco 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 vedi no we talking guarda bella giornata oggi molto bella qui abbiamo la palestra che veramente già da un po che non ci vado spero di andarci prossimamente vogliamo cantare o no ecco appena glielo dici guarda proprio ho sfruttato questo parafango perché questa conca limita un pochettino l'appoggio non di qua ma dalla dall'altra parte devi fargli un piano per per appoggiare del materiale e siccome è fatto a conca mi sembra che così vada bene no questo è appoggiato qua sopra in più è legato qua nei vari punti i lacci di plastica tengono molto bene in ogni caso a giorni vado a fare un fuoristrada e quindi vedremo subito come andrà a finire come tiene il tutto sotto il legno gli dovrei mettere qualche tappetino qualche cosa fuck non ci ho pensato e nel frattempo sto aspettando i tappetini nuovi da mettere come isolante sia come isolante che come acustica no isolante termico e acustico così almeno perché quelli che ci sono servono veramente a poco e non sono disposti da tutte le parti con quelli che prendo riesco a coprire più zone soprattutto anche davanti che mancavano dopodiché che cosa ho tolto tutto il le bandierine che c'erano prima non mi piacevano più basta gli vorrei mettere i led gli voglio mettere i led però per questo mi ci va anche una batteria di servizio oppure se non la batteria di servizio io ho un power generator così che almeno mi serve per caricare computer telefono e bla bla ecco questo va beh detto questo ho saldato il sedile certo il materiale è proprio di quello più scarso questo vuol dire che se tu fai un incidente qualcuno ti viene addosso sono cazzi tuoi cioè a parte l'airbag inesistente e va bene ma questo lo sappiamo ma ma qua col sedile che c'è con il materiale con cui è fatto qua parti cioè proprio questo qui è tutto da rifare cioè tutto un materiale veramente cheap veramente a basso non a basso a basso costo a basso di materiale cioè che vale veramente poco io con il mio peso infatti si è distrutto ma non solo non che io pesa pesi molto e che se tu hai un incidente questo si spacca proprio si capito comunque dai è andata l'abbiamo fatto saldare e via due punti ma si romperà di nuovo perché è proprio è proprio il materiale che è fatto alla waz capito in più abbiamo il problema ancora abbiamo ancora il problema della dell'acqua che dipende da come piove si apre la porta e lì viene fuori il ruscello ma non solo questo qua non so se si vede no ma la guarnizione ecco che vedi se io faccio così questa sale ma non solo questo se faccio non si vede ma si muove il vetro ecco non si riesce a vedere bene ma si muove proprio il vetro tuttavia di qua l'acqua non entra il problema più grande è dalla parte opposta che appunto l'acqua non viene giù di qua ma esce all'interno non tanto non tanto però si vede che al mattino è bagnato se piove qua ecco visto questi sono tutti da cambiare questi tutte queste viti qua sono tutte da cambiare si arrugginiscono tutte quante magari gli metto solo un po di v di forti ed ecc il gioco è fatto ecco questo qua è il rumore senza la copertura che c'era no non era questo qua sentito si sente molto più metallico no praticamente come abbiamo già visto in un'altra in un altro spezzettone qua è proprio dove c'è questa maggiore condensa di acqua e la quarnizione è molto estretta tuttavia però l'acqua riesce a riesce a passare e quindi rimane bagnato avrà una protezione maggiore anche in questi luoghi dove appunto non c'è niente qui non c'è niente e lì c'è cioè ci sono quei pezzi lì che non so a quanto servano però comunque ci sono ma quelli li lascio però gliene metto sopra degli altri nuovi di migliore qualità quantomeno di migliore qualità ok sentiamo rumore sentito come si sente molto più metallico la chiusura anche tutte queste viti sono tutte da fare sono da cambiare tutte quante da mettere quelle cromate non tutte sono arrugginite ma conviene cambiarle tutte quante capito una sì una no visione dei pannelli sono pannelli di 3 mm rivestiti di questa semilpelle i pannelli sono proprio questi qua sono per una macchina da 25 mila euro capito se paghi 25 mila euro vuoi mica avere dei pannelli seri questi sono i pannelli della whats questo è diverso infatti questo è proprio cartone questo è proprio cartone questo anche proprio cartone capito? capito? questo vedi è già diverso capito? capito di consenzo capito? sapete? capito di surtout ok non è che siano umidi è giusto uno due forse tre ecco vedi capito però sono da cambiare dai sono disgraziatamente orribili mi dispiace per questi affari qua visto come sono il materiale si vede che è diverso da quello da quell'altro che abbiamo visto poco fa visto qua e questo è solo e solo dopo un anno capito quindi conviene eliminarli e vedere subito un lavoro da fare prima che peggiori tutto